Un'altra bella opera per la nostra città, due nuovi sottopassi, un pezzo di ciclabile e un'area verde attrezzata. È un'opera importante perché consente di poter andare al mare in sicurezza, a piedi in bicicletta, consente di collegare due quartieri, ma consente anche di collegare con altre ciclabili. È uno spazio verde perché la qualità della vita si misura negli spazi dove viviamo, dove abitiamo e ogni quartiere, ogni zona della nostra città deve avere i suoi spazi verdi. E questo è un ulteriore che si unisce a tanti altri e quella era anche la missa che ci avevamo data. Ecco, con questa nuova opera è un affanno che cresce ancora, migliora la propria qualità della vita, è un affanno che continua ad andare avanti.